Nel 2019, un utente anonimo su 4chan ha fatto un post riguardo un disturbante anime perduto che affermava di aver visto molti anni prima, dando dettagli su ciò che ricordava. Quest'anime perduto, chiamato Saki Sanobashi, racconta la storia di un gruppo di ragazze intrappolati in un bagno, costrette a partecipare a una serie di giochi sadici. Nonostante non ci siano tuttora prove concrete sull'esistenza di questo anime, l'intera community si sta impegnando a trovarlo, perlustrando l'internet e i database ufficiali alla ricerca di qualsiasi indizio o informazione a cui possano accedere. Ci sono trovati vari anime horror vecchi e disturbanti, come Umezu, Kazuo, Nonoroi, Boogie Bob Phantom e Gakono, Yurei. Ma nessuno di essi corrisponde alla descrizione di Saki Sanobashi. Alcune persone credono che sia soltanto una leggenda metropolitana, mentre altri credono che possa esistere da qualche parte nei meandri del web. In ogni caso, il mistero di Saki Sanobashi continua a incuriosire i appassionati di anime in tutto il mondo. E voi che ne pensate di questa vicenda? Lasciate un like e seguitemi per altre curiosità.